siamo arrivati al 12 ormai come l'anno scorso si sta distruggendo ogni volta che provo che ne uno allora vediamo un pochino qui cosa abbiamo il progetto numero 7 abbiamo delle cali in mente qualcosina in viola dei fiorellini questi qua pensavo fossero i flower cup invece sembrano dei fiorellini illucite va bene lo stesso delle prong se non sbaglio sono le prong ricordo i nomi delle perlini ma non tutti tutti poi qui ci sono dei mezzi cristalli in silver line crystal delle 11 0 e delle 8 0 colori non mi dispiacciono devo dire questa volta vediamo un po cosa troviamo cosa cos'è sta cosa probabilmente un ciondoletto allora ecco qua la cosa che doveva essere che è finita così continuo non capire il senso di queste ciambelline senza i gancetti penso che qui l'idea sia di attaccare uno dei fiorellini però deciso che lo finirò a modo mio o mettendoci all'interno un cabochon o facendo qualcos'altro perché in realtà se vedete il retro qui sono state usate delle cali e il foro esterno si mette a fuoco sto facendo il video nella light box stasera perché è una disperazione se vedete c'è il foro esterno della cali che non è utilizzato e a me da fastidio come voi ben sapete e quindi ho deciso che farò una decorazione inferiore anche per fissare un po meglio i fiorellini quindi per questo sto lasciando sto lasciando la goi filo attaccati perché oggi non ho tempo di farlo e probabilmente lo farò a fine anno o all'inizio dell'anno prossimo vi farò vedere come ho modificato questi progetti che che non mi piacciono più di tanto così come sono cioè questo in realtà è molto carino devo dire i fiorellini mi piacerebbero di più se al posto di guardare lateralmente guardassero in alto e quindi lo modificherò un pochino per avere questo effetto un po in diagonale magari dei fiorellini finalmente avete visto ho una cosa viola e ne sono molto felice mi piace questa cosa mi piacciono i colori bianco e viola così non mi dispiacciono neanche un po sembra un giocattolino nel senso che comunque non è un abbinamento chissà quanto originale però insomma è carino secondo me lo trovo molto più bello del rosa il viola e le prong sicuramente arricchiscono molto il lavoro mi piacciono veramente tanto adesso io vi saluto subito facciamo le cose velocemente perché tempo ne abbiamo tutti poco ed è giusto stringere un pochino vi saluto e ci vediamo domani col prossimo video ciao ciao